Con quello sguardo un po' così, carezzato dal liveccio sulla tolda della nave, con lo slancio terzomondista Dan Sumahoro e la morale dinoccolata stile Jack Sparro dei Pirati dei Caraibi, Luca Casarini è stato speronato dalla magistratura. Ancora una volta, senz'altro un accanimento, come racconta il mai domo attivista. Il GIP di Ragusa, nel proseguimento delle eterne indagini sulla vicenda della ONG Mediterranea Saving Humans di cui Casarini è capo missione e della sua nave Corsara dei Migrati Mare Ionio, Ora ha sequestrato 125.000 euro La somma sarebbe arrivata alla ONG dalla petroliera danese Maers Ketien, per il trasbordo di 27 migranti sulla Mare Ionio Nel mirino dei PM si contano ben otto attivisti, tra cui spunta l'ineguagliata figura del Casarini, appunto, oltre a quella dell'armatore Alessandro Mertz e del capo missione Beppe Caccia, tutti indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina I fatti sono noti, risalgono all'estate del 2020 con lo sbarco di migranti nel porto siciliano di Pozzallo Ma la vicenda del sequestro di Danaro riaccende e peggiora la vocazione della stessa Mare Ionio, rimorchiatore anni 70 di 37 metri trasformato in taxi del mare, e accusatò di caricare e scaricare emigrati dietro l'autocompenso In questo caso trattasi di 27 migranti per 125.000 euro, circa 4.629 euro a passeggero Riassumendo, i giudici contestano ai tre un fitto scambio di messaggi con i danesi che volevano liberarsi del, carico umano, un mese di stop in mare, stava costando decine di migliaia di euro al giorno, prima di raggiungere l'accordo All'inizio pare che la cifra richiesta dal nostro sparro fosse addirittura di 270.000 euro E pare che il caccia si fosse incontrato a Copenaghen con i dirigenti della Maersk, al fine secondo la procura di, lucrare il controvalore pecuniario dell'operazione di trasbordo Quindi, la mare Ionio, l 11 settembre, salpa da Licata verso Lampedusa, poi vira verso la Maersk, il 20 ottobre 2020, e la Maersk bonifica 125.000 euro sul conto di Hydra Social Shipping SRL, armatrice della nave Per l'accusa, i dialoghi intercettati proverebbero la presunta trattativa. Domani a quest ora potremmo essere con lo champagne in mano a festeggiare, perché arriva la risposta dei danesi, spiega Casarini a Mertz Champagne Per brindare a un incontro, cantava Peppino Di Capri Ma pure per, pagare stipendi e debiti, e eludere la legge, ma facendo apparire l'operazione il più legale possibile E ancora, si esalta Casarini Mi sa che abbiamo fatto il botto E, in effetti, in un certo senso, il botto l'hanno fatto Il bonifico, datato 30 novembre, ha come causale, servizi di assistenza forniti in acque internazionali I magistrati diffidano assai Sostengono che, per liberarsi dei migranti dopo il lungo stallo, i danesi presentino, un'emergenza sanitaria a bordo con richiesta di assistenza della mare Ionio ufficialmente Salpatei per consegnare 80 litri di benzina come attesta il comandante Pietro Marrone Indagato pure lui Tra l'altro, a 12 miglia dalla costa italiana, dalla petroliera danese vengono fatti evacuare urgentemente una migrante in presunto stato di gravidanza stimato al secondo trimestre, e il marito La migrante viene visitata, in Italia, in ospedale e si scopre non avere, nulla di patologico E non è incinta Il giorno dopo, il 12 settembre, arriva l'autorizzazione a sbarcare a Pozzallo i migranti I, talebani dell'accoglienza, li chiama Fausto Biloslavo, hanno risolto il problema ai danesi e l'arrivo dei 125 mila euro da Copenhagen, fa sì che Caccia preannuncia Casarini, l'attribuzione di una confortante e gratifica natalizia, secondo gli atti giudiziari Insomma, i PM non si sono affatto convinti della linea difensiva della Mediterranea Save Humans, dei Pirati dei Caraibi, quella per cui non si nega il passaggio di denaro, ma che il passaggio è avvenuto causa, sostegno per l'attività umanitaria Luca Casarini, 52 anni, mestrino, ex no global, ex disobbediente, non si è mai capito bene verso chi, ex agitatore dei centri sociali dal Pedro di Padova al rivolta di Marghera, ha sempre avuto illustri garanti La sua ONG è nata grazie a una mitragliata di donazioni, tra cui 70 mila euro in parte donati dal deputato e segretario di Sinistra Italia Nicola Fratoianni, e dall'ex governatore della Puglia Niki Vendola, fondatore di Sinistra Ecologia e Libertà a cui apparteneva anche Nicola Palazzotto, pure lui tra i finanziatori, oltre a Rossella Muroni Per Casarini sono piovute donazioni pure da Arci, dal magazine I Diavoli, e imprese sociali come molti volti Solo nel 2018 la ONG ha raccolto fondi per 1 milione, 600 mila euro nel 2020 Il rapper Gali ha voluto contribuire lanciando una mega colletta online E per finanziare l'avvio dell'attività della ONG è stato necessario un prestito di 465 mila euro ottenuto da Banca Etica Anche, se, col senno di poi, di etico nella vicenda del nostro Jack Casarini, ci sarebbero molte considerazioni da fare Sall'etica pubblica, diceva, per ora, c'è rimasto ben poco Sall'etica pubblica, diceva, per ora, c'è rimasto ben poco Sall'etica pubblica Sall'etica pubblica, diceva, per ora, c'è rimasto ben poco